e cari amici tanti saluti da Serafino Massoni con questo filmato intendo rispondere a un lungo messaggio del blogger Zan Shins e voi potrete poi leggerlo questo messaggio non so come potete anche riprodurle va bene e spero che Zan Shins non si offenda se ne parlo pubblicamente ma non avevo tante altre modalità per rispondere al suo lungo messaggio richiesta lui mi chiede cosa ne penso cosa ne penso cioè che cos'è il giusto che cos'è il giusto che cos'è il giusto quando è che uno si trova nel giusto e quando è che si trova o quando è che si trova nell'ingiusto è un messaggio un po' un po' come dire che mi fa capire che questo ragazzo vuole avere qualche input input da una persona anziana che se ne intende di più degli altri solo perché ha sbagliato molto molto più degli altri che gli anziani sono più saggi dei giovani non perché siano più bravi ma semplicemente perché essendo campati più a lungo hanno fatto tanti 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 errori tanti errori tanti tanti per cui è quella l'esperienza allora caro amico caro amico Zanna Shins quale compito arduo che che mi chiami a svolgere ci provo ci provo caro ci provo tu nel tuo messaggio ti esprimi molto bene ti esprimi molto bene molto bene allora caro incominciamo a parlare del bene e del male l'umanità si è sempre posta sempre posta questo posto questo problema ma addirittura nacque una specie una religione era il manicheismo e il manicheismo sosteneva che tutto l'universo fosse retto da due grandi potenze equivalenti il bene e il male il dio del bene e il dio del male ma questa filosofia non piacque tanto perché se l'universo è retto dal bene e dal male allora tanto si fa del bene altrettanto si fa del male e alla fine è zero è zero non piacque fu il problema di un grande padre della chiesa è sant'agostino tu dici ma cosa mi citi a fare sant'agostino perché io ti consiglio di andare nella biblioteca comunale e leggere l'opera che io ritengo più bella di questa di questo sant'agostino sant'agostino di ipona le confessioni fatele a leggere le confessioni e vedrai che che ti sembrerà che le confessioni che sono state scritte nel 400 dopo cristo cioè 1500 1600 anni fa ti sembrerà che le confessioni siano state scritte da una persona che vive oggi è tutto lui confessa tutto 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 anche il male anche il male confessa è anche il male e sant'agostino per un certo periodo di tempo prima di diventare cristiano fu manicheo poi disse no non è possibile non è non mi sembra giusto il manicheismo esiste soltanto il bene esiste soltanto il bene cioè esiste poi traduciamo in termini anche laici e laici laici esiste soltanto il bene esiste soltanto un dio buono e che cos'è il male che cos'è il male e il male è semplicemente un bene un bene che 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 si degrada sempre di più sempre di più sempre di più spieghiamoci meglio perché arriviamo lì se uno se uno vuol fare ha dei pensieri cosiddetti cattivi in testa cosiddetti cattivi perché vorrebbe che so che so vorrebbe ammazzare una persona lui non è che vuole ammazzare quella persona per far del male a quella persona ma semplicemente perché ritiene che ammazzando quella persona lui stia bene lui stia bene cioè tutto quello che facciamo a questo mondo nasce dal nostro desiderio di star bene per cui per cui bene e male bene e male so giusto e anche giusto e ingiusto sono delle convenzioni sociali perché la società per sopravvivere la società per sopravvivere non può consentire che tu o dio o dio mettiamo in atto i nostri pensieri criminosi ma i nostri pensieri non sono criminosi perché noi vogliamo fare del male agli altri ma semplicemente perché noi cerchiamo il nostro bene ma neanche il sadico neanche il sadico vuol fare del male il sadico facendo il sadico vuole il proprio piacere poiché egli gode 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 il piacere il suo piacere che è il suo bene lui gode con la sofferenza altrui col male altrui ma nessuno di noi cerca il male il sé per sé il male in un certo senso non esiste e questa fu la considerazione che portò sant'agostino ad abbandonare il manicheismo e ad abbracciare il cristianesimo che parla di un dio di un dio perfetto perfetto e parla del male come qualcosa di secondario non di alternativo alla divinità ma se uno non crede può fare lo stesso ragionamento si può dire può chiedersi uno un ateo per esempio che come mai la terra continua a girare attorno al sole con una precisione superiore ai cronometri svizzeri come mai come mai com'è com'è questo ordine questo ordine perché sebbene il male fossero equivalenti come sostenevano i manitei e allora ogni tanto la terra perché è l'ordine 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 vuol dire il bene l'ordine vuol dire il bene vuol dire il giusto e allora la terra ogni tanto dovrebbe deviare della sua traiettoria invece no da che memoria duomo c'è la terra sempre fatto il suo giro la luna sempre attorno alla terra e via di seguito giusto ingiusto giusto ingiusto stesso ragionamento che cos'è il giusto quando è caro che tu sei nel giusto come te è difficile innanzitutto i nostri ragionamenti non sono mai autonomi autonomi perché noi usciamo da una famiglia da mamma e papà mamma e papà da una famiglia e lì quando eravamo piccolini ci hanno dato quello che si chiama l'imprinting per cui noi ragioniamo secondo l'imprinting secondo le impressioni che abbiamo ricevuto da bambini e da bambini da mamma e da papà e da tutti quelli che ci stavano intorno poi se proprio proprio vogliamo cerchiamo di staccarci da questo imprinting da queste impressioni che abbiamo ricevuto in famiglia perché la nostra mente è come una carta assorbente che assorbe l'inchiostro e allora dobbiamo arrivare alla conclusione che è giusto e giusto ma è giusto e l'ingiusto diciamo sono anch'essi relativi potrebbe essere giusto appunto tutto ciò che non fa il male degli altri il male che non rega dolore che non rega dolore e ingiusto tutto ciò invece che provoca il male agli altri rega dolore va bene poi sul piano invece della conoscenza non so della conoscenza scientifica lì lì poi il discorso diventa ancora più complesso a molto più complesso perché per esempio si dice che per esempio una montagna una montagna non è necessariamente come la vediamo noi stando da un certo posto perché un altro la vede spostato di 100 metri vede qualcosa diverso dalla montagna un altro spostato un altro che sta a 10 metri ecco quindi il giusto e l'ingiusto sono piuttosto complessi però se vogliamo arrivare ad una certa conclusione possiamo dire che il bene coincide con il giusto nella misura in cui si cerca di non da far del male a nessuno in quella misura lì che poi sarebbe la frase la frase evangelica ama il prossimo tuo come te stesso come te stesso noi amiamo noi stessi allora Gesù dice ah ma gli altri come te stesso è difficile è difficile da arrivarci è difficile da arrivarci e Kant Kant il filosofo Kant diceva tratta sempre gli altri come un fine e mai come un mezzo mai come un mezzo difficile però insomma ci siamo vicini ecco allora caro io ti posso dire che il giusto e l'ingiusto io personalmente li vedo in giusto e l'ingiusto il bene e il male da questa prospettiva è giusto o è più giusto tutto ciò che non reca danno agli altri e anche a noi stessi ed è bene tutto ciò appunto che non reca danno agli altri va bene quindi la misura non ti devi tu meravigliare se magari hai dei pensieri negativi 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 perché sono negativi sono negativi se tu li attui se tu li attui e recchi del male agli altri però tu recando del male agli altri non vuoi recare il male agli altri vuoi fare il tuo bene il tuo bene tutto quello che noi facciamo lo facciamo per il nostro bene però per convenzione per convenzione si dice che è male o è ingiusto tutto ciò che reca danno agli altri stai tranquillo in sé per sé il male non esiste è una convenzione per consentire alla società di esistere e è giusto sono giusti tutti quei comportamenti che non recano danno agli altri va bene caro amico il discorso sarebbe molto 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 più lungo è più in là non si può andare ci sarebbe tanto da discutere caro amico però ti ripeto il consiglio leggi le confessioni di sant'agostino anche se sei ateo io sono ateo per esempio ti dico leggere confessioni di sant'agostino e così capirai tante cose perché il problema del male fu proprio il grande problema che affrontò sant'agostino caro amico spero di aver detto qualcosa che ti possa piacere mi dispiace se non ti ho soddisfatto comunque a te e a tutti voi grazie se mi avete ascoltato e tanti saluti da serafino massoni